Sono Cristiano Giordiello, direttore del dipartimento di chirurgia del presidio ospedaliero Pineta Grande di Caserta e sono anche responsabile dell'obesity center. Nel centro-sud si concentra la maggior parte delle obesi di tutta Italia e negli ultimi cinque anni abbiamo trattato più di 3.000 pazienti. I pazienti obesi sono pazienti difficili da trattare allo stesso tempo molto fragili. Lo so che non è facile, lo so che non è facile. Mi avvalgo anche di una dietista e una psicologa per gestire questi pazienti e trattarli. No, dottoressa, la scongiuro no. Buone? Per te l'ho comprato, vedi? Lui pensa di coccolarla e in realtà sta contribuendo ad ucciderla. Il suo rischio di mortalità è elevatissimo. Quando sono in sala operatoria sono completamente estrarietto dal mondo. Ho paura di avere complicanze, ma non per me, per loro. Mi concentro soltanto su una cosa, sul paziente. Questo programma racconta tutte storie vere e quindi una speranza per tutti quei pazienti che non hanno il coraggio e la forza di prendersi in mano la propria vita e cambiarla. È utile che gli obesi vadano in televisione a raccontare la propria storia per dimostrare che dall'obesità si può uscire e si può tornare a vivere.